amici di Piacenza ci vediamo l'8 maggio presso l'associazione luce del sorriso è la terza volta che torno quindi vuol dire che mi volete bene quindi amici vecchi e nuovi avremo il piacere di incontrarci di persona l'8 maggio in una giornata di musica, buone frequenze e tante belle altre sorprise vi aspetto stopiamo pariamo pari, stopiamo pari su questo tuo bel viso l'inferno è il paradiso Mi metto il cuore in pace, riprendo la mia croce Su questo tuo perviso, l'inferno è il paradiso